Non ce la facevamo più a sopportare lo stress, abbiamo trovato un volo da... Non ce la faccio, non ce la faccio? Non ce le faccio, non ce la faccio sem surprise! E si riesce nella velocità, se volete si whatever, qué sul preglaverno! Andiamo entrando, quantommm ancora hai seguito, più sopportare! Grazie per vens MUCH子, buona! Tu lascia! Io credo che questa quarantena sia un po' l'occasione per stare da soli, no? In contatto con se stessi Ma certo che puoi videochiamarmi Quando? Controllo l'agenda Stasera alle 7 dici no, ho yoga in diretta su Instagram Alle 18 c'è il flash mob in balcone Si canta un sole mino No mattina ho workout su Facebook, in diretta No, 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 no Papa, papa Oh, non è Ciao ragazzi, so che è un po' egoista ma non ce la facevamo più a sopportare lo stress Abbiamo trovato un volo da Roma Siamo andati via e mi dispiace ci vediamo tra tre mesi State attenti, state a casa voi e guaritevi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.